I carabinieri di Ruvo di Puglia hanno tratto in arresto un 45enne incensurato agricoltore di professione ritenuto responsabile della violazione della normativa attinente agli stupefacenti. Nei giorni scorsi sono giunte molteplici segnalazioni al 112 di pronto intervento in quanto in alcune aree del cimitero si poteva sentire un odore acre, data all'unidefinito possibile flagranza di piante di marijuana, difforme dalle consiute salazioni dei fiori presenti nel Camposanto. Gli iniziali scarsi riscontri eseguiti dai militari non hanno consentito né di recepirne gli odori né di stabilirne la provenienza, ma l'issinstezza e la precisione delle indicazioni della cittadinanza hanno portato i militari a predisporre diversi servizi di appostamento ed osservazioni in campo aperto e nelle aree rurali circostante, all'estito dei quali solo nel pomeriggio scorso si è individuata la natura delle strane fragranze. L'insospettabile malfattore è stato infatti incastrato quando si è recato sul posto per controllare il raccolto all'interno di un capannone, costituito di lamieri in metallo e materiale plastico, dove erano stati occultati numerosissimi arbusti di cannabis a dessiccare. Effettuato un'accurata perquisizione sul posto e presso il domicilio del 45enne, i carabinieri hanno sequestrato marijuana in forma di arbusti e altra già immessa in barattoli per un peso complessivo di un quintale e mezzo. L'agricoltore è stato quindi arrestato per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e tradotto presso la casa circondaliere di Trani, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria.